Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team Il Torino per continuare a sognare, il Palermo per la prima vittoria a Balbera nella sua millesima gara in Serie A Questi gli ingredienti del Monday Night dell'ottava giornata della Serie A Finalmente sarà tridente delle meraviglie Torna infatti a disposizione nel primo minuto Iaice e Mialovic Potrà schierarlo con Belotti e Iago Falche E' cominciata Palermo e Torino, buon divertimento con la Serie A Team Baselli, scambia bene con Belotti, l'apertura dentro per Benassi Benassi, posa a Benassi, qualche modo poi la palla finisce fuori E c'è il gol di Ciocev, Palermo in vantaggio con Ciocev Palermo 1, Torino 0, la firma di Ciocev Ancora Giaic, Giaic contro Vitiello Le finte di Giaic, la palla sul destro, Giaic dentro per Belotti, la palla sul mancino dentro per Benassi La deviazione di Angelcovic per quasi non beffava Posavec Ottima la sponda di Belotti, Iago Falche apre il gioco per Giaic che prende la mira, prova il destro Ed è un gol bellissimo di Adem Giaic, Palermo 1, Torino 1, l'euro firma di Adem Giaic Zappacosta, cross col contagiri per Giaic che stoppa la palla col petto Giaic contro Vitiello, ancora Giaic, la palla sul destro, il tiro di Giaic Un altro euro gol di Giaic, la doppietta di Adem Giaic Palermo 1, Torino 2, la firma ancora di Adem Giaic Valdifiori in verticale per Belotti Vantaggio per Baselli, dentro per Benassi Benassi! E arriva anche il terzo gol nel Torino con Benassi Palermo 1, Torino 3, ancora una volta Benassi E quindi in campo Quaison, quindi rimane solo un cambio al Palermo E' iniziata Palermo-Torino La palla ancora sul mancino, cross teso a cercare il destro di Baselli La palla è entrata, Palermo 1, Torino 4, la rete di Baselli E il Torino cala il poker, che giocata Iago Falche Belotti Boie, prende la mira, Boie! Posavez in qualche modo riesce a spingere in angolo Attenzione al Palermo, Nestorowski, Nestorowski col mancino! Gol sfiorato dal Palermo, ancora con il macito di Nestorowski Lancio per Rispoli, Rispoli in aria, Rispoli prova al tiro Poi in qualche modo Art insieme a Castan si salva Angolo battuto, il colpo di testa di Ciocev, la traversa! Ancora una volta Ciocev poteva colpire Joe Art Allargare il gioco per Alesami, Alesami entra in aria Prova il mancino! Che occasione per Alesami! Boie Non c'è più tempo, finisce qui alla Barbera Il Torino rovina la festa del Palermo